Pronto! Pronto! E figgiali in tuo bagno, c'ha dighi che pira a me che sono seppue! E c'ha se figure, sono sempre occupi, e in cose che succedano c'è la mia, questa casa non è una casa, l'è un casotto. Arrivederci! Adelaide! Sì? Era quel giovanotto che abita qui sotto, testardo come un mulo. Oh oh, cosa ha detto? Adelaide, che vai ad Arbia? Rumpo il telefono, mi non ne posso. Pronto! E questo chiusa già per come velocià, con il telefono. Pronto, sì! Per dispiace e per usciare, chi scaglie non che ne è. Pronto! 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 рham! Che carl Pietro posso trutto tutte le bambini odorese? Certamente! Che era una fetta infana e cugia grossa come i due bambini trattostrano! E mia anche, che... E mi non ne posso proprio ci, cao Pietro! Ciao, arrivederci, più tardi possibile. E ha capito, anche la giù non è poi vancho di un scienziato, cosa hanno detto? Che l'invento che cresce, che vado a pagare un po' il telefono, non mi non ne posso giù. Che l'invento che cresce, che vado a pagare un po' il telefono, non mi non ne posso giù.